Assessore, Operazione Verità per quanto riguarda il servizio Mensa del Comune di Chieti. Voi avete voluto rispondere oggi a qualche polemica che c'era stata nei giorni scorsi? Non abbiamo voluto rispondere, vogliamo ripristinare la verità dei fatti con dei dati certi. Sicuramente il conteggio è questo, 1800 bambini che usufruiscono del servizio Mensa, due lamentele, che apprendo dai giornali, in quanto nei presidi, nelle commissioni, nelle subcommissioni hanno mai rilevato nulla di quanto letto. Anzi, proprio ieri sono pervenuti i giudizi delle subcommissioni che da dieci giorni girano per le mense scolastiche e in una scala di valutazione da sufficiente a ottimo, il voto dato al servizio Qualità e Metodi di Cottura della Mensa è ottimo. La conferenza stampa anche per annunciare che si sta procedendo al nuovo bando di gara per riassegnare il servizio di rifezione scolastica, bando che crediamo sarà pubblicato entro il 31 dicembre 2020 e bando che non prevede nessuna proroga, in quanto il bando vecchio prevedeva quattro anni più uno e quindi l'Aladisa, che è l'assegnataria del vecchio bando, usufruisce dell'ultimo anno, che scadrà nel febbraio 2020 e che sicuramente da normativa vigente sarà sottoposto a proroga tecnica, in quanto bisogna assicurare il servizio fino alla fine dell'anno scolastico. Stiamo lavorando con degli sponsor privati al progetto Plastic Free, in quanto per diminuire l'utilizzo della plastica vogliamo consegnare agli alunni delle scuole delle borracce d'acciaio, come fatto già da colleghi in altri comuni. In più siamo in contatto con il canile, ufficiosamente già lo stiamo facendo, per consegnargli gli avanzi delle menze e il tutto verrà siglato sicuramente con un protocollo di intesa tra comune e canile.